Patrizia Simonetti, Spettacolo Mania, salve, complimenti a tutti volevo fare una domanda a Giulia, unico personaggio, oddio unico personaggio femminile, diciamo protagonista a parte le bambine non so se ci vuoi raccontare qualcosa della tua Chiara che ha un ruolo alla fine non proprio risolutivo ma insomma importante nel risolvere tutta la tragicomica situazione grazie diciamo che Chiara è attenta, è premurosa e probabilmente non si vida di alcuni aspetti della genitorialità, non coincidono probabilmente alcuni modi di crescere questo figlio che hanno in comune per cui lei è molto prudente nell'affidare determinati compiti però ecco è quello che impara lei è che è importante fidarsi, è importante affidarsi quindi questo è un po' un viaggio che è uno scambio ossia da vari punti di vista, insomma tutti si fidano e si affidano un po' di più e scoprendo che come dire alle volte giova va bene a tutti ti sei divertita? si, moltissimo con loro da maniere si vedeva